Domani un appuntamento un po' di chiusura di questo passaggio di Natale, giusto? Sì, è l'ultimo appuntamento di questo spin-off di passaggi di Natale con Carmine Abate, Premio Campiello 2012, che ci presenterà il suo ultimo libro, L'albero della fortuna, qui alla Mediateca Montanari alle ore 18.30. Quest'anno abbiamo voluto allargare il nostro panorama e abbiamo fatto queste cinque presentazioni in questo mese. Abbiamo quindi preso, diciamo, quelle che sono le rassegne estive, abbiamo voluto un po' riportarle poi in questi appuntamenti di Natale. Abbiamo iniziato con Silvia Vecchini, un libro per bambini, Nel silenzio azzurro, e abbiamo poi presentato al Teatro della fortuna il libro di Monica Guerritore, Quel che so di lei. Poi alla Mediateca Montanari abbiamo presentato il libro di Valentina Dallari, un'esperienza appunto sulla sua autobiografia, un'esperienza sulla sua malattia, sulla anoressia. E poi abbiamo presentato la nostra guida, edita proprio da Passaggi Cultura, che è una guida di Fano molto interessante. Gli appuntamenti sono stati tutti molto partecipati, e abbiamo cercato comunque di cogliere un po' le varie sfaccettature della saggistica e vari argomenti comunque di molti grandi interessi. Siamo già all'opera per la prossima edizione, iniziamo quindi già a lavorare, lavoriamo tutto l'anno per l'edizione estiva.